Indagini che partono da Avellino imboccano l'A27 e arrivano fino in Cadore. La sicurezza degli utenti della strada che percorrono alcune tratte particolarmente trafficate è al centro delle indagini di due procure. C'è quella di Avellino che in seguito a un incidente avvenuto nel 2013 lungo l'autostrada Napoli-Canosa con un pullman precipitato da un viadotto dopo un guasto ai freni e 40 vittime ha sequestrato le barriere di una dozzina di viadotti in Campania. Questo filone ha portato sotto l'occhio degli inquirenti anche i viadotti di Rio Salere e ponte nelle Alpi lungo la 27. C'è poi l'approfondimento richiesto dalla procura di Belluno che ha affidato alla polizia stradale un'indagine conoscitiva su alcune infrastrutture chiave del bellunese. Tra queste il ponte Cadore, di competenza di Anas e altri manufatti legati invece alla viabilità in gestione Veneto Strade, società che negli scorsi mesi aveva già effettuato una ricognizione sullo stato di salute dei ponti. Molti, come quella a San Felice, tra Sedico e Borgo Val Belluna, hanno almeno 60 anni di servizio alle spalle. L'indagine conoscitiva della procura fotograferà la situazione attuale delle infrastrutture, così come fatto da Veneto Strade, individuando però anche le eventuali irresponsabilità degli enti gestori in caso di situazioni di pericolo dovute a errori o negligenze durante le manutenzioni o i potenziamenti.